Ha preso il via e il nuovo servizio di trasporto pubblico nel comune di Terra Nuova Bracciolini che collegherà il capoluogo alle frazioni. Con un nuovo autobus dal costo di 200.000 euro acquistato da Trasporti Toscani, il comune si dota di quattro collegamenti nuovi che raggiungeranno tutte le località più piccole del territorio comunale. Inoltre novità anche per gli orari, con l'apertura al servizio nei giorni festivi. Questo è il primo passo del potenziamento del trasporto pubblico locale del Valdarno che si completerà ad aprile. Quattro nuove corse da e per le frazioni che vanno a integrare ulteriormente il servizio che era in precedenza svolto e ritorna ormai dal lontano 2013 perché sono cinque anni che mancava con questo nuovo contratto le corse festive. Sono estremamente importanti perché ovviamente di domenica e in tutti i giorni festivi i trasporti verso le stazioni ferroviarie e anche verso l'ospedale della Gruccia sono particolarmente richiesti e quindi abbiamo questa ulteriore novità. L'assessore ai trasporti regionali Ceccarelli, presente al via ufficiale del servizio, parla dell'aiuto che la regione dà. Quella di Terranova è una soluzione innovativa, più flessibile, più adeguata a quelle che sono esigenze del territorio e viene definita come il lotto delle linee deboli. C'è un contributo chilometrico della regione che consente quindi in questo caso al comune di poter attivare con gli stessi soldi maggiori servizi. E questi maggiori servizi sono rivolti a situazioni appunto più deboli che sono quelle delle frazioni ad esempio, dove l'utenza sicuramente è minore ma le esigenze dei cittadini di essere trasportati sono uguali a quelle magari delle città metropolitane. Uno sforzo economico anche per il gestore del servizio che vedrà nei prossimi mesi anche il rinnovo di altri quattro mezzi di trasporto pubblici. Nei prossimi sei mesi arriveranno nuovi quattro mezzi che servivano appunto per il trasporto dove sono montate le più importanti tecnologie dal sistema del controllo della flotta alla monetica per i danni per i disabili e quindi niente l'azienda è sempre presente per svolgere il suo ruolo insomma.